Ciao a tutti io sono Carlo e se la prima volta che passate qui sul mio canale vi invito ad iscrivervi cliccando qui sotto ed attivando la campanella per ricevere tutte le nuove notifiche. Con le mie ricette vi mostrerò che non serve uno chef per portare amore in cucina. Oggi preparo con voi una ricetta veloce per chi è sempre di fretta ma non vuole rinunciare a un ottimo piatto di pasta. Penne con salmone fresco utilizzate i filetti quelli semplici da tagliare e mettere a cuocere e melanzane in bianco, una vera bontà. Iniziamo subito. Per prima cosa bisogna pulire uno spicchietto d'aglio, io già l'ho fatto, lo metto qui, poi dopo aver lavato e privato delle estremità la melanzana la tagliamo a cubetti abbastanza piccoli. Tagliata la melanzana ci spostiamo sui fornelli. In una padella capiente mettiamo dell'olio extravergine d'oliva, aggiungiamo uno spicchietto d'aglio e lo facciamo dorare leggermente. dorato leggermente lo spicchietto d'aglio lo togliamo e mettiamo a cuocere le melanzane, regoliamo leggermente di sale e le faremo cuocere fin quando non saranno belle dorate, a fiamma vivace ci vorranno 6-7 minuti. Mentre le melanzane cuociono, dopo aver sciacquato per bene il salmone sotto acqua corrente fredda e fatto sgocciolare, lo asciughiamo tamponandolo con la carta assorbente e poi lo tagliamo a pezzetti abbastanza piccoli. Tagliato tutto il salmone ci spostiamo di nuovo sui fornelli. Le melanzane come vedete sono a buon punto, ora mettiamo il salmone e lo facciamo cuocere a fiamma molto dolce fin quando la pasta sarà pronta l'acqua già bolle, quindi regoliamo leggermente di sale, mettiamo il sale nell'acqua della pasta e mettiamo la pasta a cuocere. Quando mancherà un minuto alla fine della cottura della pasta mettiamo un mestolo di acqua di cottura in padella insieme al salmone alziamo a questo punto un po' la fiamma e trasferiamo la pasta in padella perfetto! Una volta trasferita tutta la facciamo finire di cuocere e insaporire per bene direttamente in padella mescolando tanto in maniera tale che la pasta possa rilasciare l'amido oppure facendola saltare. Quando la pasta sarà al dente possiamo mettere un po' di peperoncino piccante, diamo un'ultima mescolata, io faccio saltare e andiamo ad impiattare. Ed ecco qui nel mio piatto ci metto un altro po' di peperoncino piccante, un filo d'olio fresco e assaggio con voi! Grazie a tutti! Grazie a tutti!